Che simbolo avete scelto? Mamma mia, siete due cadaveri. Vabbè, ho capito. Diamo un senso a staserata. Siete mandati 200 all'ora? Con il Vespino? No, con la Porsche del Papi. Non c'è nessuno di oggi. Siamo vivendo, vivendo. Non ci saranno ancora le cose. È il final countdown! E adesso è il clou della serata. Signore e signori, scatta il puttantur. E vai! Senti, non me la fa guidare a me. Eh, ma che sei scemo. E dai! No, no. Dai, Ricca, una volta, che ti costa? Dai! Dai! Oh, se gli fai solo un graffio mio padre ci fa gambizzare. Oh, ma vuoi stare tranquillo? Guarda che a me in scuola guida mi chiamano Niki Lauda. Sì, vabbè. Eh. Ma non vedi questo? Ma come? Io te l'ho chiesto cento volte e non me l'hai mai fatta guidare. Oh, e dai poveraccio, lo stanno pure per bocciare. È il suo ultimo desiderio. Eh, eh. Oh, grazie Riccardo, eh. Aniki Lauda, ma vaffanculo. A presto. 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 A presto.